Andiamo incontro a un cambiamento del tempo sul finire della settimana, quando correnti più fresche in arrivo dal nord atlantico si porteranno verso l'Europa centrale, innescando da sabato sera notte temporali anche intensi, soprattutto al nord ovest e ai settori alpini centro-occidentali, mentre sul resto d'Italia persisterà ancora questa ondata di caldo, anche se di tanto in tanto nelle ore pomeridiane sull'Appennino meridionale non mancheranno acquazzone qualche temporale, che a tratti si porteranno anche verso le coste del basso versante tirrenico. Andiamo a vedere poi nella giornata di domenica come questo vortice di bassa pressione in quota, innescato appunto da queste correnti più fresche da nord, si andrà a centrare sul medio-alto versante tirrenico, innescando una maggiore instabilità, soprattutto su Alpi, sempre al nord ovest, ma questa volta con maggior coinvolgimento anche del versante tirrenico interessato a tratti da rovesci temporaleschi che dalla dorsale appenninica si porteranno a tratti fin verso il litorale. Andrà meglio sul resto d'Italia anche se con l'inizio della prossima settimana questo vortice instabile persisterà soprattutto al centro-sud con acquazzoni e qualche temporale, soprattutto nelle ore pomeridiane. Per aggiornamenti in tempo reale scaricate la nostra app gratuita per smartphone e tablet.